Lai la la, la la la, lai la la ero, lai la la, questa canzone comincia che mi son vestita molto molto bene, sono scesa col cane e ha incontrato un gran figone. Come va? Mi dice lui. Cosa fai? Da queste parti dico io. Sono qua per lavorare. Devo cambiare delle luci dell'ascensore. Tu invece cosa fai di lavoro? Io faccio la cantante ma è retribuito male. Allora lui soggiunge che non è un gran lavoro e forse non è male starsene a casa a dormicchiare. Come osi davvero non si sa più come farvelo capire. Non si sa come far capire queste cose. Io faccio anche politica e adesso dimmi se a sabato può una persona normale venire a cambiare la luce in ascensore. Oh yeah Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.